Good morning, buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, sono le 7.09 di oggi giovedì 28 marzo, frescolino in giro devo dire, qui in studio questa mattina abbiamo più frescolino del solito per non dire proprio freddo, nottata di pioggia, adesso il momento si è placata, speriamo che mantenga così, ma poi vedremo perché le previsioni non danno il meglio per soprattutto Pasqua e Pasquetta. Ma dopo ne parliamo con calma, allora buongiorno ancora a tutti e a tutti, come state, come va, che cosa farete questa mattina, oggi vacanza per molti perché le scuole sono chiuse e per altri scleri perché invece devono andare a lavorare e non sanno dove mettere i figli. Quindi oggi giornata dei nonni se ci sono sicuramente perché verranno piazzati dei nonni dei poveri bestie che non sanno dove andare quindi devono essere buttati lì perché le scuole sono già chiuse e quindi raccontateci un po' come va la vostra giornata e la mattinata. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Siete a casa? Siete via? Perché molti se ne stanno andando via, molti secondo me questa mattina ci ascoltano dalla macchina mentre se ne stanno andando dalla città, secondo me. Via per il ponte di Pasqua, via per le vacanze pasquali, via lontani dalla città, cercare chissà cosa, altro traffico, altra gente che è andata via dalla città in un altro posto. No dai no no, scherzo, anzi sicuramente vi rilasserete, vi troverete una bellissima pace che poi tornerà, chissà cosa state preparando per Pasquetta poi, ma poi ne parliamo nei prossimi giorni per Pasquetta. C'è ancora domani, c'è ancora. Ricchi e poveri ma non tutta la vita e iniziamo allora questa puntata con i vostri whatsapp che arrivano al 331-7-8-5-3-5-5-5. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i cristallini, cominciano le vacanze pasquali delle scuole e si vede perché c'è meno traffico in giro, effettivamente ce n'è molto meno in giro di gente. Già ieri secondo me c'era delle mie fonti esterne allo studio, perché sapete che io vivo qua dentro praticamente, quindi non vedo niente all'esterno, se non grazie a voi, alle fonti che mi raccontano cosa succede qui fuori. No, comunque guardando anche ieri l'esterno e guardando un po' il traffico di ieri, effettivamente sembra che un po' di gente fosse già partita, si fa la settimana lunga quest'anno via. Comunque sta di fatto che oggi sicuramente non ci sarà nessuno in giro, quindi uscite con calma e andate sereni verso la vostra meta. A meno che non avete appunto da dover piazzare i figli da qualche parte perché non sapete come fare, perché non avete lo smart working, non ve l'hanno dato oggi perché cascasse il mondo, non si può fare smart working proprio oggi. Ma proprio oggi lo volevi fare? No, scuole chiuse e quindi dovete trovare il modo di mettere i figli da qualche parte. Traffico che appunto oggi sarà meno o meno, però dopo lo chiediamo agli amici di Luce Verde per capire se sarà più scorrevole o meno, ma che ieri ha dato il meglio di sé. Perché cosa è successo? Ieri mattina, poco dopo la chiusura della nostra puntata, tamponamento a catena e traffico in tilt lungo la tangenziale ovest di Milano. Non vorrei che vi siate messi a ballare sulla nostra sigla finale e avete fatto sto casino, quindi mi auguro di no. Comunque Kodak è arrivata a toccare gli 8 chilometri, pensate un po'. Eh sì, coinvolta in un incidente 6 persone, nessuna delle quali sarebbe però in gravi condizioni. Giornata difficile per gli automobilisti lungo la tangenziale ovest dove ieri mattina appunto si è verificato un tamponamento a catena che ha causato pesanti, pesantissime, oserei dire, ripercussioni sulla circolazione e non pochi problemi al traffico. Con una lunga coda di auto, sto leggendo da Repubblica Milano, arrivata a raggiungere gli 8 chilometri di lunghezza intorno alle 11 del mattino. Questo appunto è quello che ha comunicato sul proprio sito Milano Serravalle, gestore della tangenziale. L'incidente si è verificato nel tratto tra l'uscita 4, Cusago Bisceglie, e l'uscita 5, vigevano l'Orenteggio in direzione sud. Cioè quelli che da qua vogliono andare verso l'IKEA, così per chi è della zona capisca. Quindi diciamo che da San Siro per andare verso l'IKEA, quel giro lì, ok? Quindi passi dall'uscita Cusago e poi ti mettevi in coda fino all'IKEA, appunto, vigevano l'Orenteggio. Coinvolte 6 persone, nessuna delle quali fortunatamente sarebbe in gravi, scusate, con dizioni. Ovviamente è subito intervenuto l'Agenzia Emergenze e Urgenze, l'AREU, il 112, il 118 della regione Lombardia, con 3 ambulanze e 2 automediche in codice giallo. E poi ovviamente Polizia Statale di Assago, che è intervenuta con tre volanti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quindi, insomma, i ripercussioni sono stati tutto il giorno, perché poi alle 11 è arrivato all'apice la coda. Ma dice così anche l'articolo, nel primo pomeriggio continuavano comunque a esserci code a tratti, di ripercussioni, perché poi riuscire a ristabilire il flusso, che già normalmente non è poi così fluido, non è stato semplice, quindi giornata complicata. Vi auguriamo che oggi sia un po' meglio. Non lo so io, ma lo sa chi. Luce Verde, invece, che ci dà la fotografia del traffico in tempo reale, in questo istante. E allora ci colleghiamo con Luce Verde per sapere appunto come sta andando. Luce Verde, che ci dite? La canzone dell'anno scorso è uscita, ricordate, il grande ritorno di The Pesh Mode nel 2023 con questo pezzo, che volentieri facciamo ascoltare qua alle 7.22 su Crystal Radio, qua a Good Morning Milano. Milano, che è anche la prima parte della dicitura, della ragione sociale di Milano, ristorazione. Dobbiamo parlare ancora di Milano ristorazione perché è stata tirata in causa, di nuovo, per un fatto successo che poi si è scoperto non essere come sembrava. Andiamo con passo passo, step by step. Mi raccomando ascoltate tutto, perché se ascoltate solo un pezzo vi arriva solo metà della notizia. Perché da Milano Today leggo il titolo che dice Chiodo o vite nel cibo per i bimbi a scuola è il quarto caso in un mese. Periodo nero per Milano ristorazione, indagini interne in corso, ma il ritrovamento è confermato. Questo è il titolo. Poi c'è un articolo abbastanza lungo in cui poi c'è un ultimissimo paragrafo che dice una cosa che invece Repubblica Milano dice direttamente nel titolo. Perché il titolo di Repubblica Milano è Un chiodo nel piatto della mensa di una scuola elementare a Milano. Il comune, dopo le verifiche, dice È stato lo scherzo di un ragazzino. Ebbene sì, la vice sindaca, assessora Anna Scavuzzo, scrive alla commissione mensa e dice Altri episodi nei giorni scorsi, con lamette e fermacapelli. Indagini ancora aperte invece sui casi del vetro nel pane E di un coleottero nella crema di verdure. Tornando all'articolo di Milano Today, che in realtà parte male ma finisce bene Perché parte malissimo, cioè parte così che ti dice Ok, e quindi tu leggi la prima parte e dici Ecco, c'è il solito problema. Invece no, perché poi c'è un ultimo paragrafo Che è intitolato La lettera di Scavuzzo e gli scherzi Che quindi ti fa capire che c'è qualcosa che non va Che dice che appunto l'assessore ha citato il chiodo nel piatto di patate in una lettera Spiegando che è stato avviato un iter di accertamento Che ha portato a una relazione a seguito di verifiche sopra luoghi e prove di laboratorio Sottolineando che il chiodo è simile a molti altri presenti nella scuola E, aggiunge la Scavuzzo, è stato anch'esso inserito nei pezzetti di patate Successivamente alla fase di somministrazione In un modo che non risulta compatibile con l'accidentale caduta di tale oggetto Nella realizzazione dell'insalata La Scavuzzo quindi afferma però che sarebbe quindi un caso più simile a quelli rivelatisi scherzi Delle scorse settimane Tanto che dopo ha aggiunto che i fatti invece occorsi da fine febbraio e inizio marzo Sono di tutt'altra natura Quindi attenzione a non fermarvi mai a leggere solo il titolo Perché non c'è stato nessun ritrovamento di viti o chiodi O meglio sono stati ritrovati una vite all'interno di un piatto in una scuola Ma quella vite ce l'hanno messa i ragazzini Questa è la verità Cioè, ultimamente fanno questo bellissimo scherzo di mettersi Allora, molto meglio lo facciamo anche noi, non lo so Ci mettiamo dentro di tutto però non finiva sui giornali Ecco, nel senso ti buttavo la gomma e te la trovavi nel piatto Oppure ti lanciavo un pezzo di Lego e te lo trovavi nel piatto Adesso magari giocano proprio sul fatto di dire Avete detto? Perché poi prima è questo Che ragazzini non è che non ascoltano noi Non è che non ascoltano Good Morning Milano O non vedono i genitori leggere i sui siti O i genitori parlare e dire Ecco, hai visto l'ennesimo pezzo di vetro? Polemica, polemica E poi si fanno gli scherzi tra di loro E ci sta, cioè fanno Facciamo il caso Facciamo anche noi quelli che trovano la roba nel piatto Perché poi, come dire, sono ragazzini Cioè, che cosa devono fare? Giocano a fare queste trupidaggini Facciamogli capire che è una grandissima stupidaggine Ma forse, appunto, adesso ci sarebbe da capire Prima di scrivere titoli giornali Mettiamoci a capire piano piano Di che cosa stiamo parlando Piccola pausa E poi torniamo qui con un graditissimo ospite Ma ve lo dico dopo la pubblicità E dopo Noemi con Vuoto a perdere Spagna con Easy Lady 7.36 minuti Qui oggi giovedì 28 marzo Good Morning Milano a tutti ancora In diretta qui su Crystal Radio FM 96.2, Dub Plus E tutto quello che volete Ovviamente ci siamo anche sull'app di iOS Android, sul sito internet Ovunque voi vogliate ci trovate E vi ricordo anche il nostro sito GoodMorning.Milano.it Perché ho dovuto fare tutto questo preambolo tecnologico? Perché sono uno dei miei maestri Anzi potrei dire Di uno dei miei maestri Che mi hanno conosciuto Quando ero uno giovane diciottenne Che voleva affacciarsi Al mondo della televisione E invece c'era questo Umaccione così Tanto bello e buono Però sembrava E non c'era cattivissimo No non è vero Sto dicendo Tante cose buone Del nostro Gabriele Di Matteo Buongiorno Gabriele Ciao Fabio Come va? Benissimo Benissimo Ti vedo in forma splendente È sempre bello averti qui Insomma è sempre bello sentire Parlare te di tecnologia Ma non solo di tecnologia Si parla questa volta Nonostante tu abbia scritto un libro Che appunto avete presentato ieri Giusto se non sbaglio? Sì il libro è stato presentato Alla Mondadori Duomo Però te lo faccio anche vedere Fabio E' questo qua Ecco qua Intelligenza artificiale Come usarla a favore dell'umanità Con la U maiuscola Esatto Quindi il punto è proprio questo Già nel titolo L'intelligenza artificiale Qualcuno la vede come un miracolo Qualcun altro lo vede come l'apocalisse Noi abbiamo voluto fare una cosa molto realistica Fornendo ai lettori La cosiddetta cassetta degli attrezzi Cioè come possiamo usare L'intelligenza artificiale Per guadagnare tempo libero per esempio Perché ormai tutti hanno bisogno di più tempo Qui a Milano si corre Si corre, si corre, si corre E quindi uno dei mezzi Per guadagnare tempo libero Può essere l'intelligenza artificiale Ti faccio subito un esempio pratico Questa cosa me l'ha raccontata Un italiano che si chiama Federico Faggin Un miliardario ormai Che ha inventato il microprocessore Senza di lui non ci saremmo Non saremmo nemmeno in onda Perché il microprocessore come tu sai I tuoi ascoltatori sanno È alla base di tutto E la tecnologia ovviamente Tutti gli strumenti tecnologici Pensate che ogni macchina elettrica Che va su strada Dentro la macchina A circa 3.000 microcili 3.000 Wow Esatto E quando purtroppo lanciano i missili Nelle guerre varie Dentro quei missili Ci sono i microcili Quindi senza Faggin Il mondo si sarebbe fermato Di lui Bill Gates ha detto Senza Faggin La Silicon Valley Sarebbe soltanto Valley Giusto Ecco ottimo Quindi tornando al libro Faggin che cosa mi dice Lui ha usato ChatGPT Che è la più famosa Diciamo il più famoso modello Di intelligenza artificiale L'ha usata per tradurre Un lungo testo Dall'inglese al cinese Ma quello che lui dice È che poi questo testo Lo devi verificare Quindi tu devi conoscere L'inglese e il cinese Quindi ti fa guadagnare tempo Perché lui avrebbe messo Cinque volte di più A fare questa traduzione O un traduttore avrebbe impiegato Cinque volte il tempo ChatGPT te lo fa In cinque o sei secondi Però vuole una verifica umana Chiarissimo Perché gli errori lui non li vede La cosa interessante del vostro libro Infatti è proprio questo Che appunto l'umano è messo al centro Nel senso che non è un manuale tecnico Giusto? Certo Allora questo libro Non è un manuale tecnico Ma è un libro Con una base scientifica Perché il mio coautore Che voglio citare Eugenio Zuccarelli È sempre un italiano Che ha studiato All'MIT di Boston E poi è andato A lavorare a New York Nella analisi dei dati Nel mondo della salute Quindi lui si è occupato Di tutta la base Diciamo scientifica Che comunque è importante Ed è autorevole Io ho raccontato invece le storie Te ne racconto subito uno E allora no Sai cosa faccio Ti tengo qua invece Per raccontarci le storie Prima andiamo con un po' di musica Metto il boss Ti piace? Bruce Prisky Ti garba il boss Con il boss non si sbaglia mai E allora andiamo con Bruce Prisky Con Dancing in the Dark E poi torniamo qui Con Gabriele Di Matteo Per parlare del suo libro E parlare delle storie Dentro questo fantastico libro Fra poco Bruce Prisky Prima e poi Gabriele Di Matteo E questo era il boss Bruce Prisky Con Dancing in the Dark Dedicato a Gabriele Di Matteo Che è il nostro ospite Di questa mattina Che è qui con noi Che lui non balla Nell'oscurità Anzi È la luce che ci porta Verso la conoscenza Dell'intelligenza artificiale Ma che roba Gabo va bene Ti piace come idea Che ci porti nella luce Va bene Ti stavo raccontando Fabio Una storia Vai Che è la storia Della maialina Gertrude E chi è? Perché Un certo punto Un signore che si chiama Elon Musk L'uomo più ricco del mondo Quello che ha inventato la Tesla Ha deciso di far dialogare Il cervello umano Con i computer Ok Senza l'uso delle mani Senza l'uso di nulla Soltanto trasmettendo il pensiero E ha preso questa maialina Che si chiama Gertrude Gertrude gli hanno impiantato Nella testa Un modulo piccolo Diciamo me Dieci volte più piccolo Di un capello umano Che contiene Dei microprocessori Contiene una serie di cose Tecnologiche Che permette la trasmissione Delle emozioni Delle emozioni Dal cervello Al computer E questa maialina Poi Elon Musk L'ha fatto dare un biberon Mentre lei ciucciava Questo biberon Si vedeva sul computer Il fatto che lei Godesse di questa cosa Che gli piacesse Eccetera Qual è l'obiettivo Di tutto ciò? Dare alle persone Che hanno delle grandi disabilità La possibilità Di interfacciarsi Con una macchina E infatti gira Sulla rete In questi giorni Il video Di un ragazzo Che sta sulla sedia a rotelle Che non si può muovere Non può muovere le mani Che con questo impianto Riesce a giocare a scacchi Muovendo le pedine Soltanto con il pensiero Eppure più con lo sguardo Tu ti ricordi Che noi a Netcafè Facciamo vedere Come con l'occhio Puoi guidare Ricordiamo Per chi magari Si fosse perso Netcafè È stata una trasmissione Pionieristica Si parlava di Intratecnologie Già nel fine anni 90 Giusto? Sì Il primo talk show Della storia umana Penso Lo facevamo Su Tele Lombardia Sì Sì Tu pensa che Mi Mi fermano ancora Per strada Dice no ma tu sei Quello di Netcafè Quindi ha lasciato Un segno Ecco un'altra cosa Importante del libro Eh volevo sapere Le persone che ha incontrato In questo libro Chi sono? Chi è che hai intervistato? Allora intanto Il fondatore Di ChatGPT Quello che ha creato ChatGPT Che poi è stato Il Come dire L'avvio Per una Diffusione di massa Tu ti ricordi Che in tre settimane L'hanno scaricato Cento milioni di persone È stata l'app Più scaricata Nella storia umana Quindi ChatGPT Eh il suo creatore Si chiama Sam Altman Ovviamente È un miliardario Ovviamente Vive a San Francisco Però ha anche Un aspetto umano Perché con i soldi Che ha fatto Ha cominciato A comprare Delle vigne Nella Napa Valley Per fare il vino Quindi è uno Che ci sta Sulla terra Non è uno Che vive Nell'iperspazio E questo signore Ogni riferimento All'on mask È puramente casuale Diciamo E niente Sam Altman Gli ho chiesto Se questa Intelligenza artificiale Farà crescere Il benessere Delle persone Farà crescere Il prodotto interno Lordo Dei paesi E lui ha detto Non ti sodire Di quanto Lo farà crescere Sicuramente E migliorerà La nostra vita E fa una serie Di esempi Che noi riportiamo Nel libro Oltre a Faggini Che ti ho nominato Prima Abbiamo Il più famoso Filosofo Etico Che si chiama Luciano Floridi Che insegna Yale E lui Poverino È abbastanza Preoccupato Perché mancano Le regole Giusto Nonostante l'Europa Sia avanti In quello Ad esempio So che La Commissione europea Sì L'Europa È diventata Un po' Il laboratorio Delle leggi Del mondo Peccato però Che tutto il business E tutta l'intelligenza artificiale Immane alle superpotenze Quindi noi facciamo le leggi Gli altri fanno i miliardi No? Però è importante Che ci siano le leggi E quindi Floridi raccomanda Di trattare Questa è una È una Similitudine Molto carina Lui dice L'intelligenza artificiale Somiglia un po' Alle pecore È un po' Come Sono le pecore Di oggi I pastori Li devono curare Le pecore Le devono Tosare Devono Fare Latte Devono fare Ma Attenzione A lasciare Le pecore In un giardino Di rose Perché ti distruggono Tutto L'intelligenza artificiale È uguale Va curata Va studiata Va impiegata Ma non la puoi lasciare A briglia sciolta Chiarissimo Allora Gabo Dici bene Dove possiamo trovare Il tuo libro E so che ci sono anche Altri appuntamenti In cui potremmo invece Incontrarti Proprio per parlare Di intelligenza artificiale Allora Il libro Ti faccio rivedere La cover È già disponibile Intelligenza artificiale Come usarla A favore dell'umanità Quella U su umanità È bellissimo Mondadori Mondadori Perfetto La U maiuscola Da Mondadori Che tutti conoscono Lo potete trovare Nelle librerie Oppure online Ovviamente Si può comprare Su Feltrinelli Su Mondadori Su IBS Su Amazon Dove volete In formato digitale Per gli appuntamenti Fabio Il più vicino È il 4 di aprile Palazzo Mezzanotte Che i milanesi Conoscono Come Palazzo della Borsa Dove c'è il dito Davanti Che fa così Per chi ci sta ascoltando in radio Fastweb Nella nuova Il tour Sappiamo che ti sei infortunato È un luogo È un luogo È un'icona Bellissimo Grazie Oggi mi porto Questa pacca sulla spalla In giro per tutta la giornata Così sono contento Anche se piove Anche se piove Sarà il mio ombrello Va bene Ok Gabriele Di Matteo Grazie mille Del tuo intervento Grazie mille Del tuo libro E appunto Speriamo di vederti in giro Per la città In questo tuo tour Con il tuo libro Sotto braccio Va bene Ciao Fabio Grazie a tutti voi Grazie mille ancora Gabriele Di Matteo Mi raccomando Andate cercando Sia in Liberia Appunto Che sui vari store digitali Il suo libro È disponibile Mi raccomando È molto interessante Intelligenza artificiale Come usarla A favore Dell'umanità Con la U Maiuscola Mi piace molto Quella cosa lì Grazie mille Andiamo avanti Con un po' di musica Rose Villain Con Click Boom Rino Gaetano Con Gianna Le 8.06 Il nostro Crystal History Di giornata Non abbiamo E non c'è Abbiamo una canzone Che dice Tamara Non lo so Chiediamola a lei Tamara Malleo Buongiorno 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 Agli ascoltatori E alle ascoltatrici Di Crystal Radio Good morning Milano Diciamo così Buona Ormai Buon Quasi fine settimana Sì sì Settimana santa Così la chiamano Mi hanno detto Di dire così Ma ascolta Ma non c'è una canzone Che dice Tamara Davvero? No C'è una canzone Adesso però Non Me l'hanno cantata Me l'hanno cantata Nel senso che Allora No 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 Questa Fermi tutti Quando è che ti hanno fatto La serenata Cantando di Tamara No questa voglio No siccome Come tu ben sai Lavoro in una televisione Che si occupa anche Di canzoni popolari E allora Uno degli ospiti Che era presente Ha detto Che c'è una canzone In cui c'è Tamara Me l'ha anche cantata Ma degli anni Credo 30-40 C'è una marcetta Del ventennio Una roba del genere Non vogliamo Non vogliamo indagare A questo punto Di altri tempi Ah ok Perfetto Come faceva Come faceva Te la ricordi? No 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 Ah peccato Meglio non sentirmi cantare Volevo far cantare Tamara Mallea Volevo far cantare Tamara Mallea Passavamo dal teatro Al musical in un attimo Tamara Allora Dove ci porti Questa settimana Questa settimana Allora Potrebbe essere Pensa Tammy Potrebbe essere L'inizio della canzone Tamara Dove ci porti Questa settimana Vedi L'abbiamo già fatto La prima strofa L'hai fatta apposta Prima strofa Già fatta Prego Adesso Parliamo di cose serie Vai Tamara Allora Vi parlo di un luogo Che ho scoperto ieri sera Perché sono andata a vedere Uno spettacolo Che era In data unica Di un'attrice Meravigliosa Che si chiama Valeria Perdonò Che è uno spettacolo Che lei porta In giro Da tantissimo tempo Che si chiamano Amorosi assassini Si parla di violenza Si parla di donne Ma si parla soprattutto Della nostra Capacità Di chiudere gli occhi Davanti a quello Che vediamo Quindi è uno spettacolo Che scuote Un po' Le coscienze Per evitare Di far finta Di nulla Ma questo spettacolo E quindi il consiglio Di seguire Valeria Perdonò Ma questo spettacolo Si Diciamo così Era Ospitato Dalla Corte dei Miracoli Che è uno spazio Un'associazione culturale Che si trova In via Mortara Siamo in zona Navigli Si arriva Con la metropolitana verde Fermata a Porta Genova O con il 9 O con insomma Ci sono tantissimi mezzi Che arrivano in quella zona E Corte dei Miracoli Che è un'associazione Culturali Di giovani ragazzi E ragazze Che si occupano Di creare Appunto Un movimento culturale In quella zona Ci sono delle serate Dedicate al cinema Ci sono delle serate Dedicate al teatro E nei prossimi giorni Ci saranno delle serate Dedicate alla musica Soprattutto jazz Quindi un luogo Dove si mangia Si beve Ma dove si può Appunto condividere Dell'arte Quindi una serata Da passare Attraverso Le arti Che ci portano In mondi Insomma Colorati Diciamo così Di colori diversi Di note diverse Quindi Corte dei Miracoli In zona Navigli Io gli invido Io gli invido Tantissimo anche il nome Mi piace tantissimo Mi piace Corte dei Miracoli Molto bella Sì Anche perché Spesso e volentieri Lo usano Per definire La nostra redazione Quindi Spesso Diciamo Questa Corte dei Miracoli Invece in questo caso È una Corte dei Miracoli Molto più artistica Rispetto alla nostra No Anche la vostra È una Corte dei Miracoli Piena di anime Piena di anime Colorate Insomma Che si sforzano Di portare Colori E arte Nel mondo Parlando di arte Tamara Mi scrivono Al 33178 53555 53555 Dove dicono Ranfi Canti benissimo Sembri Il quarto Del volo Quello Che è stato Scartato Da piccolo Quindi non so Grazie mille Che però Che però Ha portato Ad una carriera alternativa Ah sì Può essere Firmate i messaggi Però perché non so Chi li scrive Quindi firmatevi Perché non Grazie comunque Nel senso Va bene Me lo segno La tua canzone È stata molto apprezzata Grazie Grazie mille Grazie mille Allora Dalla Corte dei Miracoli Ci spostiamo A un altro Spazio indipendente Di cui abbiamo già parlato Che si chiama Zia Zona appunto Di Di arte indipendente Che è Gestita da un gruppo Di attori Attrici Registe Registe Indipendenti Tra cui c'è Irene Serini E anche loro Si occupano di Teatro indipendente Di Nuove Drammaturgie Ma anche Di Musica Perché Nei prossimi giorni In particolare Il 6 di aprile Quindi la prossima settimana Ci sarà un evento Che si chiama Effetto notte Narrazioni musicali Per scenari possibili E in questo caso Ci saranno Tre Artisti Di artiste Giulia Bertazzi Con la fisarmonica Giulia Larvi Con il violino Stefano Fascioli Con il contrabbasso Che ci porteranno In atmosfere cinematografiche Attraverso appunto La loro arte Con i loro strumenti Per raccontarci Anche quello spazio In cui le parole si fermano E la musica continua Quindi In questo caso C'è una Narrazione E questi spazi E questi spazi Diciamo così Tra virgolette Alternativi Di Milano Ci portano A percorrere strade Insomma Meno tradizionali Legate Insomma Alla narrazione Tradizionale Ma che ci possono portare A scoprire Anche delle nostre Passioni Ancora Non conosciute Quindi bisogna Sempre Portareci In zone Bisogna Che noi stessi Ci spingiamo In zone Che non conosciamo Proprio per scoprire Qualcosa di diverso Che ci appartiene Oltre a Ciò che conosciamo Che sicuramente Deve essere Nutrito Tutto al contrario Di quello che fanno Gli algoritmi E i vari Suggesti Cioè Basta Fuori da quella roba lì Brava 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 Poi invece Torniamo Ad una forma Se così vogliamo dire Di teatro Un po' più tradizionale Perché torniamo Al teatro Litta Che si trova In zona Anche questo In zona Metropolitana Cadorna E quindi In zona Corso Vercelli Corso Sì Corso Vercelli E Il teatro Litta Ospita Un regista Che io amo Molto Artisticamente Perché lo Segue da tantissimo Tempo Che si chiama Stefano Cordella Che ha deciso Di portare in scena Le notti bianche Di Dostoievski Quindi un grande classico E noi diremo Un'altra volta Un grande classico E invece no Perché Stiamo in Cordella Fa un racconto Diciamo così Delle notti Delle notti di Dostoievski Molto Molto Umano E Chiaramente Ci riportiamo Alla storia Delle notti bianche Quindi di questo Protagonista Che Nella sua solitudine Inizia Questo viaggio Nel mondo Dell'immaginazione Vaga nella notte Cercando Incontri Che possano Utrire la sua fantasia Ma il suo mondo È un mondo Fantastico Quindi è un mondo Comunque animato Da tutto ciò Che lui Genera Non che la realtà Genera All'improvviso C'è questo incontro Con questa donna Che in realtà Gli permetterà Di uscire In qualche modo Da questi schemi Della sua mente Che lui si è costruito E si renderà conto Che la realtà È un'altra cosa Che la realtà Gli genera in lui Dei sentimenti Delle reazioni Che non può contenere Che non può controllare E che in qualche modo Lo portano Lontano Da tutto quel mondo Che lui si è costruito Devo dirti che Chiaramente Il grande classico Letto di Dostoevsky È sempre un grande classico Quindi è un piacere Però Stefano Punta moltissimo Sulla parte emotiva Quindi Su uno scavo emotivo Che ci permette Di viaggiare All'interno Della solitudine Del protagonista Ed è una solitudine Che poi Si scardina Attraverso un incontro Con un'altra umanità E quindi Ci riporta Anche all'idea Che comunque Siamo degli animali sociali E quindi abbiamo bisogno Di relazione Anche se quelle relazioni Ci portano a sofferenza Ci portano Comunque a metterci in discussione Ci portano In un mondo Di Comunque Sicuramente più faticoso Di un mondo Che ci costruiamo Secondo le nostre definizioni È uno spettacolo Che sicuramente Ci permette Di fare un viaggio Importante Perché Si parte da parole Importanti Che sono quelle di Dostoievski Che però Le atmosfere Che costruisce Stefano Sono sempre Delle atmosfere Molto Emotive Quindi Entrano dentro Un'affettività Che ci coinvolge Quindi Questo a Teatro Litta Chiarissimo 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 Bene Allora Teatro Litta Abbiamo fatto un po' Il giro del Milano Con tutti i vari teatri Che ci hai Posso fare un'altra cosa Prego Prego Fai quello che vuoi Tamara Io vado anche via Ti lascio tutto Ciao Ragazzi No lo so Lo so che mi allargo sempre Ma no Ci manca I prossimi giorni Potrebbero essere anche Dei giorni di riposo Per molti Volevo consigliare Un'ultima cosa Che mi ha colpito In questi giorni Una lettura che ho fatto E tu dirai Pure quella Sì pure quella Una lettura che ho fatto Tamara Dici tutto tu Comunque volevo dirti Che io non ho Mai detto niente del genere Anzi sono felice Di tutta questa cultura Che porti qui Cioè È un po' come le notti Il protagonista Le notti bianche Di Dostoievski Io faccio Di Ispo Faccio un po' così Fatti una domanda E dati una risposta Esatto Valentina Barile Ha scritto un libro Che si chiama Restare vivi Ed è un libro Molto interessante Perché parla Dei popoli Dell'Amazzonia In particolare Della Colombia E lei è andata In Colombia Sostenuta da un'associazione Di volontariato Per incontrare Coloro che si occupano Di questi territori E di uomini E donne Che mettendo in pericolo Anche la propria vita Perché sono delle zone Molto pericolose Controllate Da Diciamo così Gruppi Anche violenti Mettono a disposizione Appunto La propria esperienza Per poter creare Delle situazioni In cui Bambini Bambine Donne Uomini Possano Vivere Diciamo così In un contesto Accettabile Detto questo È molto difficile E lei Questo viaggio L'ha fatto soprattutto Incontrando le umanità Quindi le persone Con le loro difficoltà Con Anche le loro frustrazioni Con delle storie A volte Difficilissime Perché sono storie Anche di morti Violente Sono storie Di persecuzioni Però lo ha fatto Proprio perché A volte Noi chiudiamo gli occhi È più facile Su popoli lontani Che non conosciamo Però questo ci permette Comunque di sensibilizzare La nostra Persona Nei confronti Di situazioni Anche a noi vicine Quindi È un modo Per Svegliarci Da Un'apatia Sociale Che insomma In qualche caso Ci spesso Anzi Si involge Quindi Era per consigliarvi Una lettura Che può In qualche modo Risvegliare La coscienza sociale Insomma Molto interessante Anche appunto I consigli di lettura Di Tamara Malleo Insomma Grazie davvero Tamara Questa è una nuova Casa editrice Che si chiama Voods Edizioni Che appunto propone In questo momento Pochi titoli Come si chiama Scusa? Voods Edizioni Ok Voods Sì sì È nuovissima E appunto Ci propone Dei Pochi titoli Ma Che ci portano A Conoscere La nostra Umanità Anzi A discutere La nostra Umanità Bene Bene Grazie Tamara Allora Grazie come sempre Dei consigli Volevo darti Questa notizia Che ho scoperto Mentre tu Guarda Ho scoperto Di riuscire a fare Due cose Contemporaneamente Ascoltare te E fare una ricerca Sono riuscito Finalmente a fare due cose Insieme Mai riuscito In vita mia Invece Pensa Ti rifori il meglio Di me stesso Anche Perché Ho scoperto Che nel 1972 Un gruppo Chiamato La strana società Cantava una canzone Dal titolo Nel giardino Di Tamara E faceva così Però piange Dice che Nel giardino Di Tamara Io piango Dice Non so che cosa Gli hai combinato A questi poveri Della strana società Però Io sono sempre Molto Insomma Cerchiamola E distruggo qualcosa Per rinascere Tamara Che fatica Però Mamma mia Cerchiamo Ragazzi Cerchiamo Di aiutare Tamara Ma io sono Molto Cioè Quando arrivo Diciamo così Che porto Un po' Scompiglio positivo Scompiglio positivo Cioè Quando entri Uno rimane lì Dice Wow Capite Questo E questo Tami E questo E questo Grazie Tamara Allora dai Noi ci risentiamo Settimana prossima Buone feste Saluti e baci Così in questi casi Va bene Va bene Grazie a tutte E a tutti voi Grazie mille Ancora a Tamara Malleo Che per noi È il grande Spettacolo del teatro Non solo Anzi Sai cosa ti dico Cara Tamara Che tu sei il nostro Grande spettacolo Dopo il Big Bang E andiamo con Giovanotti Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Giovanotti Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Siete voi Voi che mi ascoltate Tutte le mattine Voi che scrivete I messaggi Al 3317853555 Ringrazio Nello Ora per i complimenti Nel mio canto È bellissima questa cosa Sembra il quarto del volo Quello che è stato Scartato da piccolo Mi piace tantissimo Davvero Questo anello Te la rubo Perché me la devo giocare Con i miei amici 3317853555 Il numero di Whatsapp Appunto A cui potete Scriverci Raccontarci Insultarmi Per come canto Ma anche raccontarci Un po' magari Quello che farete Per Pasqua O Pasquetta Attenzione Però Eleggo da Repubblica Milano Pasqua e Pasquetta Di pioggia A Milano E in Lombardia Benissimo Festeggiamenti Weekend Instabile Come molti I nostri ascoltatori Con abbassamento Delle temperature Gli esperti Dice Se avete Organizzato È fantastico Gli esperti Cioè Chiunque aveva visto il meteo Gli esperti Dicono Secondo Repubblica Milano Gli esperti Due punti Aperte le virgolette Se avete organizzato Una grigliata Preparate un piano B Ma dai Questi esperti La sanno lunga Devo dire Complimenti davvero Anche a chi scrive Queste robe Comunque E quindi Grigliate E picnic Sono a rischio Meglio pensare A un piano B Per Pasqua E Pasquetta Secondo gli esperti Ancora Chi sono gli esperti Mi piace Lucia Lucia Landoni Una grandissima giornalista Di Repubblica Milano Però mi fa morire da ridere Questa cosa degli esperti Io voglio sapere Chi sono gli esperti Lucia Chi sono gli esperti Mi piace Magari un popolo Capito Come dicevano gli unni C'erano gli unni Gli azzechi E gli esperti Così Era una popolazione Vabbè Comunque Questa di fatto E grazie Anzi a Lucia Per comunque Raccontarci bene Come sarà Questo weekend Che non è facile Da raccontare Perché Succede un po' di tutto Pioggia Neve Acqua Sole C'è di tutto di più Quindi molta instabilità Dal punto di vista meteo E quindi Domenica 31 marzo Il bollettino del centro Geofisico Prealpino di Varese Parla infatti Di nubi Spesso Estese Che porteranno Alcune piogge A partire da Alpi E prealpri Più diffuse Inserate nella notte Quindi in realtà Se siete giù Dalle nostre parti Potreste salvarvi Ma non è detto Perché poi Anche lunedì Viene data Un'instabilità Meteo Molto molto Elevata Attenzione Intanto Perché anche scattata A mezzanotte L'allerta gialla Emanata dal centro Monitoraggio Rischi Naturali Di Regione Lombardia Per rischio Idrogeologico Ordinario A Milano Il centro operativo Comunale Della protezione civile Sarà attivo Ovviamente Durante Pasqua Pasquetta E tutte le feste Per il monitoraggio Dei livelli Idrometrici Di Seveso E Lambro E per coordinare Appunto Gli eventuali Speriamo Non necessari Interventi In città Quindi davvero A parte che lo dicono Gli esperti Ma trovate un piano B Io l'ho trovato Ho 15 persone Che dovevano pranzare Che devono pranzare A Pasquetta Da me In cortile Abbiamo sempre fatto così La Pasquetta in cortile Che è una cosa molto bella Sotto il glicine Davanti alla casa di Ringhiera Molto milanese Come roba E niente Ho sbottato una stanza apposta Per metterci un tavolone Nel caso che vada male Quindi metto tutti lì Non so cosa fare Faccio due tavoli Faccio il tavolo dei grandi Il tavolo dei piccoli Il problema è che non abbiamo i piccoli Vabbè Prendo listatura Andiamo Va bene Quelli sotto Quelli sotto il metro settanta Vanno nel tavolo di là E quelli di sopra Vanno di qua Oppure di circonferenza Avrei dovrei farli Perché effettivamente Io occupo due posti Quindi Forse dovremmo farli così Comunque Trovate un piano B Lo dicono gli esperti Ma soprattutto Lo dice il meteo Trovatevi un altro piano Se volete fare una bella grigliata A Pasquetta Perché non è detto Che ce la riusciate a fare O meglio Magari dovete per forza Fare il guazzetto E quindi non va bene Per la griglia Andiamo avanti con la musica Poi ci faremo Per un attimo di pausa E torniamo qui ancora Su Crystal Radio Sempre qua in diretta Con Good Morning Milano Final Countdown Degli Europe Credo sia una delle primissime Canzoni di cui ho memoria Nella mia vita Pensate Mi ricordo questa loro Piccolo quadro Del piccolo Fabio Appena An elementari Andavo Perché erano fine anni 80 Quindi Andavo in elementari In macchina Con il suo papà Perché ovviamente È sempre comodo Mai andato una volta A scuola Senza che qualcuno Mi accompagnasse Ero sempre sulla strada Di qualcuno Che andava al lavoro Quindi ovviamente Ho scorcato passaggi Per andare a scuola Fino ai 17 anni Comunque Piccolo Fabio In macchina Che ascolta la radio La mitica Chi non se la ricorda Radio Milano International Che era veramente Una delle primissime radio Tra parentesi Se la gioca Con Cristian Radio Tra parentesi Comunque Ricordiamo che 1984 Cristian Radio Insomma 40 anni fa Ah ve li siete accorti anche voi Ne parliamo che avanti però Ma soprattutto Appunto Questa cosa E in radio Passavano di Europe E io cantavo A scuola In una maniera Ovviamente Che può fare Con un bambino Di 6-7 anni Cantare questa canzone Comunque sì Effettivamente Uno dei primissimi Ricordi musicali Che ho Ed è sempre bello Riascoltarla Anche oggi A distanza appunto Di quasi 40 anni Comunque Se anche voi Qual è il vostro ricordo musicale 33178 53555 Il vostro primo ricordo musicale Qual è Qual è Chissà Me lo potete dire Volete raccontarmelo Ditemelo pure E vediamo un po' Com'è che Vi siete poi approcciati Anche all'ascolto della radio Magari siete arrivati dopo Magari è una cosa Che vi seguete Da tutta la vita Chissà Chissà Comunque Torniamo a parlare Di Ramadan Perché non si fermano Le polemiche Anzi Ovviamente C'è sempre Chi deve aggiungere di più Perché non si può mai Fare una settimana Tranquilla La nostra vita Leggiamo dal Corriere della Sera Sezione di Monza Ci spostiamo In provincia di Monza Però comunque Siamo qui vicino E titola così Il Corriere della Sera Una serata Di Ramadan Insieme La festa L'onoratorio di Renate La Lega Dice Come Pasqua In una moschea Che tra parentesi Magari si può anche fare Non lo so Comunque L'iniziativa dell'associazione La Pace Viene fatta negli spazi Della Chiesa Dei Santi Donato E Carpoforo Il parroco Don Claudio Borghi Ha concesso L'uso Della sala Per fare questa festa Che è una serata Di Ramadan Insieme Mi piace Perché l'associazione Si chiama La Pace Quindi cerca di unire Le varie comunità Del comune Di Renate Nella provincia Appunto Di Monza E Brianza È polemica Per la serata Ovviamente È polemica Tirata fuori Dall'ennesimo Capogruppo O consigliere In questo caso Il capogruppo Della Lega In consiglio regionale Alessandro Corbetta Che non ho Non so se è di Corbetta Ma ha tirato fuori La polemica Polemica come al solito Che serve solo Per fare tanto rumore Per nulla Io mi auguro Semplicemente Che invece Serva un po' Per fare pubblicità La serata E portare Un po' più di gente A Renate E magari dare una mano All'associazione La Pace di Renate Che chissà quante altre cose belle Farà oltre a questa Ma ovviamente Si parla solo di questa Davvero Sono un po' Stufo Di queste Polemiche Il parco Lo saprà Il pre Di dare il pezzo L'oratorio È legato A tradizione cristiana Benissimo La tradizione cristiana C'è anche il fatto Di legarsi Alla comunità E quindi Per favore Smettetela Di tirare fuori Inutili Esterili Polemiche Dove queste Polemiche Non hanno Senso Di esistere L'unica cosa Che mi dispiace È che adesso Sarà un casino A Renate Perché tutti i giornalisti Andranno lì Tutti a fare domande Completamente inutili Alle persone Che volevano Semplicemente Fare una festa Tutti in compagnia In un comune Che non è neanche Stiamo parlando Di Sinsinnatica Scusate Mi in albero Cioè stiamo parlando Di 3.967 Abitanti Al 31-12-2022 Quindi insomma Davvero Dobbiamo per forza Fare tutta questa polemica Dobbiamo per forza Sempre andare A rompere le scatole Alla gente Che vuole semplicemente Vivere serena Nel suo paese Ma non lo so Andiamo avanti Con un po' di musica Questa invece ci salva sempre Zucchero Spirito nel buio Good morning Milano Eh sì In alto i nostri cuori In alto le nostre mani Benvenuti qui Nella chiesa Di Good morning Milano Nel tempio Della musica Good morning Milano Scusate Mi faccio prendere sempre Ogni volta C'è poco da fare Quando parte il ghost Quando parte il soul C'è poco da fare Il venerino Viene fuori così Viene fuori così La parte di Monsignore Che ho dentro Viene fuori E prende il sopravvento Il pastore Fabio Così Scusate Chiedo scusa Comunque Primo ricordo musicale Vi ho chiesto prima E Nello Al 331 7853 555 Ce lo ricorda Dobbiamo andare indietro Nei tempi dei dinosauri Perché ci dice Che il suo primo ricordo musicale Pensate Spidi Gonzales Di Peppino Di Capri E il Gegege No Gegege Na 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 Di Gegege Di Rita Pavone Setti Riprodotti Pensate Perché ovviamente Nello è uno che poi Si impallina anche Di roba tecnica Riprodotti Con una Fono valigia Della Europhone Allora L'Europhone So cos'è Nel senso È una marca Che faceva anche Giradischi Faceva anche Mangianastri E faceva Il gelosino Non credo fosse L'Europhone Ma faceva Della roba simile Al gelosino Cioè Mangianastri Proprio con il nastro Che tu mettevi dentro E passava Non c'era la cassetta C'è proprio il nastro Magnetico Ma La valigia Fono Credo forse Quella dove mettevi Dentro il disco Ed era una valigetta Con la maniglia E sopra c'era Un altoparlante Credo sia quella roba lì Comunque Davvero Agli albori Proprio della Della musica Comunque Di quella musica Che Nello È il tuo primo ricordo musicale Pensa Ma se noi adesso La mettiamo In una qualsiasi serata Al Magnolia O al Fabrico Così la gente La ballerebbe Comunque Anche secondo me Ve lo dico I ragazzi Della Gen Z Che magari Non la conoscono tantissimo Ma poi quando la sentono È un attimo Che diventa TikTok È un attimo Che diventa Challenge È un attimo Che diventa Il momento più virale Che funziona Balletto In un balletto Perché comunque Con la musica lì C'era poco da fare Ti tirava dentro C'era anche quella là Una zebra Pua Quella lì Mi è andata a Maragiano Ve la ricordate Ecco quella lì Secondo me Potremmo pensare Di fare La rivincita dei boomer Ieri abbiamo avuto La rivincita dei nerd Che sono quelli Che sono arrivati A rubare 60.000 euro di roba Al GameStop Quest'oggi Potremmo pensare Alla rivincita dei boomer E fare davvero Imporre Al posto di Neil Nass Al posto di Stelo Swift Al posto Sentirei anche un po' Di disgusto Con la mia voce Comunque tutta Deve far ritornare Un po' Queste qua Secondo me Sono super super Perfette Per Per il Per TikTok Con le canzoni C'erano dei ritornelli Che spaccano Ah ecco La fonovaligia Non era proprio Un mangiadischi Era una fonovaligia Gli toglievi il coperchio Ah e diventava Una cassa Pensa La fonovaligia Era una cassa portatile A cui toglievi Nico Fidenco Sul jukebox Della spiaggia Varazze Eh vabbè Qui quando andavo a cuccare A Varazze Eh vabbè Grazie Grazie Alberto Va bene Ho capito che ho risvegliato Ricordi di cui Non dovevo toccare Però Perché insomma Qui andiamo su Su tempi Su tutti i miei Ah ero un bambino Ok no Mi dice che ero un bambino Ok no no Perché Secondo me Alberto Il bambino Era già suo fascino Quindi andavo in giro Con le bambine di Varazze Diceva Ciao bimba Io sono di Milano Dai andiamo su Andiamo su Vieni a ballare Del granello di sabbia Insieme a me Andiamo avanti con la musica Lei lo dì E invece di ballare Fa il bagno a mezzanotte 8 e 53 minuti Siamo alla fine Di questa puntata Di Good Morning Milano Grazie per averci seguito Ma rimanete ancora qui con noi Perché c'è tanto altro Prima di finire Lasciatemi anche oggi Per poter fare gli auguri A delle persone importanti Sto parlando Quando parliamo di politica Insomma bisogna essere Superpartes Noi giornalisti Dobbiamo esserlo Ma credo che ci siano Delle persone che A prescindere Se stiano sedute In un banco o nell'altro Siano persone che fanno Davvero tanto per questa città Una di queste È la consigliera Diana De Marchi Che proprio oggi Fa gli anni E quindi tanti auguri Alla consigliera Diana De Marchi Complimenti Tanti tanti auguri Buon compleanno Diana E poi ci sono anche Gli ascoltatori Che fanno gli auguri Gli compleanno oggi Eh sì sì Tanti auguri a Francesca Che fa gli anni Quest'oggi Buon compleanno Buon compleanno Francesca E so già che la tua Torta di compleanno Sarà della grande Fatica Perché lei fa quella roba lì Fit Come si chiama Crossfit E quindi insomma Sarà della grande fatica Ma so che ti darà Grande soddisfazione Fare il crossfit Il giorno del tuo compleanno Quale regalo migliore Magari di riuscire A superare uno dei tuoi Grandi record Che fai nel crossfit Quindi tanti auguri anche a te Francesca E buon compleanno E l'angolo degli auguri Non è finito allora Perché anche Alberto Ci suggerisce Che voleva fare gli auguri A sua sorella Nadia E quindi tanti auguri a Nadia Per il suo compleanno Dal fratello Alberto Mi piace tantissimo Questo momento Basta Finito I compleanni però Ci sono finiti Finisce anche Good Morning Milano Vi do appuntamento a domani Dalle 7 alle 9 Qui su Crystal Radio Con una nuova puntata Di Good Morning Milano Vi voglio bene Spero un pochino Me ne vogliate anche voi Ciao a domani Ciao 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 a domani Ciao a domani Ciao a domani